Amici bellini, io lo youtuber non lo so fare perché gli youtuber seri sono già pronti con i video verso mezzogiorno, alcuni li fanno alle 2, alle 3, io volevo aspettare le parole di Gattuso, i rumori, io volevo aspettare le parole di Gattuso per fare un video più logico e più pregno, però qua stanno tutto mandando in ritardo, se poi faccio il video, sicuramente tra l'editing lo posto troppo tardi, nessuno se lo guarda perché a un certo orario, dimostratemi il contrario, lasciate un like, vedetevi questo video e iscrivetevi al canale Telegram ovviamente che trovate in basso in descrizione perché così tenete tutte le notifiche sempre pronte quando youtube non lo fa, perché youtube non lo fa, io che ne so se vado live su un'altra piattaforma, potrebbe anche essere, state tuned perché è capace che lo faccio. Comunque sia, volevo ringraziare e fare complimenti all'amico Francesco Esposito che ha vinto la maglietta nella giveaway di ieri, la facciamo rivedere per completezza di tutto ovviamente, eccola qua, mi sposto da questa parte e come vedete siamo sul mio store valeriofluido.hoplix.com, ringrazio anche gli amici di Hoplix per questa giveaway, ho dato tutti i, come si dice, i dati agli amici di Hoplix di Francesco e riceverà questa qui, lui la scelta blu è bellissima e come sapete ovviamente è solo la prima giveaway ragazzi, stiamo arrivando a 5000 molto in fretta, questo è un nuovo cappellino, pensando all'estate a un certo punto il cappellino non deve essere per forza di lana, come quello su quell'altro store che in questo momento non è disponibile, però io vi devo fare una domanda a voi nei commenti, vi devo fare una domanda molto importante, si sono aperte il preordine, no? È bellissima, non si può guardare proprio, però la mia domanda è, visto che qua 99 euro è papù, se sa fa, è sa da fa, però poi si deve aggiungere, nel caso, nel caso, così, con il numero 10, la volete così, con il numero 10, oppure così, con il numero mio, che, cioè, come voi la prendereste? Questa è la mia domanda che faccio a voi nei commenti, così, oppure qualcuno mi diceva senza numero perché, no, senza numero no, con il numero, ma senza nome, perché così è più ricorda il passato, il Napoli, quando aveva Maradona non c'era mai la scritta, Maradona l'ha avuta solamente nell'Argentina, la scritta Maradona è il nome, quindi io sono in grossa difficoltà, così mi piace tanto, è molto personale, però il tributo a Maradona, sono in grande difficoltà, la prendo, comunque la prenderò, faccio un sacrificio e la prendo, perché è un tributo inevitabile, non posso fare altrimenti, fatemi sapere nei commenti voi come la prenderete, o come la prendereste, se con il nome, con il numero, Diego, Dios, insomma, ci sono tantissime possibilità e non so come fare, non so come dire, è il numero uno, è l'unico, è il numero zero fluido, non lo so, comunque la prenderò, comunque, ritornando alle parole di Gattuso, che qualcuno mi ha scritto poi anche via, perché poi si è poco aspetto, volevo fare la cosa così, una cosa importante, oltre alla Z che dobbiamo ovviamente rispettare e valutare, perché all'andata ci hanno fatto lo scherzetto e non deve proprio accadere, io mi sono rivisto la mia reaction per ricordare bene come è andata la partita, fatelo anche voi per sfizio, perché vi rivedete la mia reazione e vedete se effettivamente il Napoli meritava o non meritava di perdere, il Napoli le sue occasioni le ha avute anche all'epoca, però non siamo stati belli fluidi nell'azione, c'era Osimene, c'era anche Mertens, avevamo l'attacco pesante, però poi abbiamo sofferto la ripartenza, non siamo stati belli fluidi e quello che sarà probabilmente, facciamo un attimo di roba tattica, la facciamo più grande? Facciamo un attimo più grande, qua i potenti mezzi del Caffè Napoli 1926, la spostiamo un pochino qua e questo è quello che succederà probabilmente domani, tutti stanno parlando di Maximovic, ovviamente i rumori sono così, stanno parlando di un Maximovic in campo, non so se riposerà Manolaso o Koulibaly, io sto chiamando un po' di riposo per Koulibaly, da una vita. Yusai e Ramani sono negativi, questa è la notizia, quindi non sono ancora disponibili, ma sono negativizzati, quindi bene, Di Lorenzo deve fare un ultimo sforzo, poi magari si vedrà per il Crotone, magari sarà il momento anche di Malquie, e pare Goulam possa tornare titolare per questa partita europea, potrebbe essere anche una vetrina se qualcuno solo vuole comprare, eh? Ho idea io! L'ipotesi è di Bakayoko al centro del 4-3-3 ibrido, che adesso possiamo vedere con Lobotka, Mezzala ed Elmas, ovviamente questo è quando il Napoli non ha la palla, quando il Napoli non ha la palla, voi dovete capire, lo vedete se lo vedete bene, addirittura, addirittura, Petagna deve inseguire e deve farlo meglio perché Petagna è lento, però Mertens lo fa un pochino meglio. I primi a fare il pressing sui difensori sono le due mezze ali, non sono Politano e Insigne che sono le ali, Politano e Insigne scendono anche un pochino di più, molto spesso anche con la Roma si è visto, andavano in linea con Demme ed è così che si fa la fase difensiva del 4-3-3 di Gattuso, ecco perché risulta un 4-1-4-1, ovviamente, ed ecco che è importante che questi due siano molto mobili e lo sono, e sono più mobili anche di Fabiano, sono più mobili dello stesso Bakayoko che io avevo previsto anche Mezzala quando deve giocare Demme, ma in questo caso sarà lui Frangiflutti, ma quando prendiamo la palla ecco che Insigne si può accentrare, Elmas può finire sotto punta, Lobotka può dare una mano, se Politano si accentra dà spazio a Di Lorenzo per andare in fondo, Goulam per andare in fondo, ed ecco questa la formazione. Quando il Napoli prende palla si possono creare situazioni del genere, ovviamente lo sapete, Elmas si deve buttare dentro, lo stesso Lobotka si deve buttare dentro, quando si accentra Politano di Lorenzo può fare gli scambi, insomma questa è la situazione. Sembra di essere tornati un pochino alla situazione a Celottiana, però se il Napoli è mentalizzato e lo fa bene e decide di essere fresco e tosto su tutte le seconde palle, ragazzi c'è tanto da vedere perché al di là del modulo, veramente al di là del modulo, tutto sta nella testa di questi ragazzi, se veramente la partita con la Roma ci ha fatto capire che sì, battiamo male è un calcio d'angolo, ma la seconda palla è nostra, sulla rispinta siamo bravi a fare subito il raddoppio, la riprendiamo e ritorniamo con il giro palla e li lasciamo sempre lì chiusi, il golo a un certo punto arriva e l'abbiamo dimostrato e se è arrivato con la Roma perché non può arrivare con la Z-Alkman? la Z-Alkman va rispettata, è una squadra che gioca bene a calcio, ci hanno fatto la siringa all'andata, quindi dobbiamo stare con l'attenzione altissima al di là del modulo e al di là dei giocatori in campo, questo è quello su cui dobbiamo stare attenti, importantissimo sarebbe una vittoria il Napoli in questo momento è a 9 punti, se vinciamo finiamo a 12, la Real Sociedad ovviamente ha la possibilità di vincere con il Riega, quindi la Real Sociedad si porterebbe a 10 e a quel punto noi con la Real Sociedad ci giochiamo il primo posto nel girone, siamo ovviamente abbattendo la Z-Alkman siamo qualificati perché noi stiamo a 12, loro non possono poi arrivare, possono arrivare ovviamente a 7 e al massimo potremo arrivare secondi, quindi vincere per qualificarci, se ho detto una strozzata ditemelo nei commenti perché lo sapete, qua il fuso orario, le cose, ogni tanto posso sbagliare anche io, chissà che Riega non faccia una follia e vinca con la Real Sociedad me lo chiedo così, sai, an passant, senza problematiche, ma per caso sta parlando Gattuso? E che tra le altre cose hanno anche affrontato l'argomento Diego Armando Maradona, torniamo a parlare proprio del compianto Pipe de Oro? No, non voglio parlare più del compianto Pipe de Oro, ne abbiamo parlato abbastanza, il ricordo di Diego deve essere bello fisso nella nostra mente, nei nostri cuori, ma in questo momento bisogna tornare a parlare di campo perché non si può pensare che il Napoli abbia vinto con la Roma solo perché Diego ci ha messo la mano sua, ha telecomandato eccetera eccetera adesso sfruttare anche l'emotività, Gattuso cosa dice? Gattuso dice a Insigne lo vedo un po' musone alle volte deve sorridere di più, lui è il capitano, lui è il leader tecnico, lui è il leader della squadra ed è un'altra pungolatura che lui vuole fare al capitano, non so se va bene o no voi fatemelo sapere nei commenti se siete d'accordo, è importante però che se lui l'ha notato vuol dire che c'è, Gattuso non è che se lo inventa, Gattuso fai complimenti ad Insigne lo sapete che è fulcro centrale di questa squadra, però però però, meno musone, meno musone fai un sorriso in più, porta avanti la squadra a livello di leadership e vediamo di vincere, di andare avanti in queste nuova lib che poi pigliamo magari il Real Madrid Dav New York, Dav New York, Dav New York, Valerio Fluido è tutto amici bellini e vi siete iscritti al canale, lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi e se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo estrazione assorte, si chiama giveaway da Brooklyn, Valerio Solido, no Saverio Solido, non mi ricordo e vi faccio un regalo, non mi ricordo